Il crono edging, come dice la stessa parola, è l'invecchiamento legato allo scorre del tempo. Il photo edging è un invecchiamento legato all'esposizione a fattori ambientali, primo di tutto il sole. Sappiamo benissimo come oggi l'obiettivo primario del medico estetico sia quello di medicina preventiva, di fare la prevenzione. Ovviamente potendo intervenire poco sul crono edging, che è legato a fattori anagrafici, dobbiamo sforzarci di intervenire di più sul photo edging. L'invecchiamento legato alle esposizioni deve essere un pochino corretto e la prevenzione primaria può fare tanto, basti pensare solamente all'utilizzo di uno schermo solare che limita di tanto l'invecchiamento cutaneo. Io faccio un esempio molto banale alle mie pazienti un po' più grandicelle. Dico sempre, vede il suo viso, se lo confronta a un'altra parte del corpo che è coperta, alcune volte dico la schiena oppure dico anche il sedere, avete la stessa età, però il suo viso sembra più vecchio. Questo perché? Perché il viso non si è protetto abbondantemente dalle radiazioni solari. Ecco che stressiamo soprattutto il concetto della fotoprotezione anche nei mesi invernali. Nell'ambito invece del crono edging, essendo io un geriatra e quindi occupandomi di invecchiamento, la correzione dell'invecchiamento è legata a molteplici fattori. Non ci basiamo solamente su una protezione di tipo topico che servirebbe poco, ma implementiamo con delle sostituzioni di micronutrienti, quindi la nutriceutica ci porta la possibilità di intervenire in maniera marcata e poi interveniamo con le sostituzioni di tipo ormonale. L'ormone che preferiamo utilizzare nell'ambito del crono edging sono gli ormoni bioidentici, quindi non ormoni di sintesi chimica ma bioidentici, identici a quelli dell'uomo. E in questo stiamo portando avanti un concetto di sostituzione ormonale di tipo bioidentica. Questo permette veramente di affrontare questo tipo di invecchiamento che altrimenti non sarebbe affrontabile a 360 gradi. Quindi che ben venga il filler, il botulino, il peeling o il laser per intervenire sulla struttura esterna, ma dobbiamo consolidare la struttura interna. Per esempio, sempre che faccio le pazienti, le rughe del viso sono anche le rughe delle nostre ossa. Una persona che ha molte rughe ha probabilmente anche tanto osteoporosi e quindi la correzione del crono edging deve essere a 360 gradi.